Alessia, però Saul consuma un sacco di energie nel perseguitare Davide e perde proprio di vista il suo vero ruolo, ovvero quello di proteggere il suo popolo contro altre popolazioni. Mi ricordo che il nemico ora sono i filistei, però ho qualche lacuna, quindi... Li perde proprio di vista. Chiamiamo Don Mirco, lui ci saprà spiegare sicuramente meglio. Don Mirco! Ciao! Ciao Alessia, ciao Marisol. Di cosa stavate parlando Alessia? Stiamo cercando di capire cosa succede realmente tra i filistei e il loro conflitto. Eh sì, Saul si è perso via nel cercare Davide, migliaia di uomini per stanare Davide, uccidere Davide, ma in realtà il grande problema del suo regno sono i filistei, un popolo più potente rispetto al quale spesso Israele dovette difendersi. E anche, e ormai siamo arrivati verso la fine del primo libro di Samuele, ancora qui abbiamo i filistei all'attacco e Saul che cerca, direi disperatamente, di potersi difendere. Vediamo come va a finire anche questa storia qui. Siamo arrivati al capitolo 28, quindi ormai quasi verso la fine del primo libro di Samuele, e il nostro episodio potrebbe intitolarsi Saul e la negromante, quindi qualcosa di particolare che troviamo al capitolo 28. Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito a Rama, sua città. Saul aveva bandito dalla terra i negromanti e gli indovini. I filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sunem. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saul vide il campo dei filistei ebbe paura e il suo cuore tremò. Ma come erano visti dunque i negromanti al tempo? Che colpi avevano per essere cacciati? Sì, qui la Bibbia dice proprio qualcosa del genere, cioè, praticamente, qual è la questione? Si sta per sviluppare una grande battaglia di Israele contro i filistei. E nei tempi antichi, prima di fare battaglia, i re di solito consultavano Dio, probabilmente tirando quelli che noi chiamiamo i dadi, o guardando il movimento delle nuvole nel cielo, degli uccelli nel cielo. In tanti modi, penso, guardando le viscere delle vittime e dei sacrifici, si cercava di capire quale sarebbe stato il futuro. Quindi abbiamo tutti quei tipi di indovini che di solito predicono il futuro. Quindi avrebbero potuto dire al re attacca battaglia perché vincerai, oppure no, non attaccare battaglia perché le cose ti andranno male. Ecco, questo era il primo aspetto. I negromanti sarebbero quei personaggi che sanno evocare gli spiriti dei morti. Si dice che Saul aveva vietato queste figure, gli indovini e i negromanti, perché motivo? Diremo noi per motivo teologico, cioè se il Dio di Israele è l'unico vero Dio, rispetto a lui tutti gli altri non possono che essere delle pallide imitazioni. Quindi non ha nessun senso evocare gli spiriti dei morti, non ha nessun senso cercare di capire il futuro, legarsi a queste persone. Vorrebbe dire, in qualche modo, sminuire la grandezza di Dio, l'importanza di Dio, la figura di Dio. Ecco, quindi direi che questo è il motivo principale per cui Saul aveva vietato, diremo noi da bravo re, queste figure di indovini e di mestieranti. Perché diceva, insomma, il vero Dio è il Dio di Israele, è solo lui che va sentito e non tutte queste altre figure. Fatto sta che, ci dice il testo, Saul consultò il Signore, ma c'è un grande silenzio. Il Signore non gli rispose. Potremmo dire che questo silenzio è un silenzio sdegnato da parte di Dio. Dio aveva già detto, forse vi ricordate a Saul, tu sei un re che io ho screditato. Mi impento di averti fatto re su questo popolo, perché non ti sei rivelato all'altezza. Dio ha già detto a Saul, attraverso il profeta Samuele, tu non sei più la persona giusta, io ho già scelto una persona nuova, un re, questa volta davvero in gamba, che prenderà il tuo posto. E Saul ha capito un po' la volta che questa persona è Davide, quindi c'è già questo re pronto al posto di Saul. Saul naturalmente vorrebbe comunque che Dio gli facesse capire come andrà questo scontro con i filistei, ma dal Signore arriva un silenzio sdegnato. Allora Saul le prova tutte e dice ai suoi ministri, cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla. Se il Signore consultato non mi risponde, voglio provare a consultare un negromante. I suoi ministri gli risposero, vi è una negromante a Indor. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte e le disse, pratica per me la divinazione mediante uno spirito, evocami colui che ti dirò. La donna gli rispose, tu sai bene quello che ha fatto Saul, hai eliminato dalla terra i negromanti e gli indovini, perché dunque tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? La donna dice, no, non posso farlo, è pericoloso. Temo che tu sia una spia di Saul che mi stuzzica per fare la negromante quando in realtà questo mio lavoro è vietato. E Saul le dice, no, no, per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda. Dice, fai, anche se è vietato, tu fallo. Però, Don Mirko, Saul va dalla negromante con l'inganno. Che conseguenze si possono aspettare, soprattutto in questo caso, da azioni non realmente pure? Sì, è vero, Saul va con l'inganno, infatti si dice che lui si traveste, si camuffa, eccetera. Quindi non vuole farsi riconoscere, non vuole farsi riconoscere. Diciamo che però questo è l'ultimo dei problemi. Nella figura di Saul davvero è tutto storto ormai a questo punto, sembra tutto davvero compromesso. Quindi vedrai anche nel seguito del brano non è questa finzione che procura su di Saul un'ulteriore condanna. Cioè a Saul peggio di così non potrebbe andare. Quindi lui ha provato il tutto per tutto e vedremo adesso come va a finire. Allora la donna è stata convinta da Saul a evocare davvero uno spirito di qualcuno morto e gli dice chi devo evocarti a questo punto? E Saul le dice evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Ecco che si rivela subito l'inganno. Quindi Saul ha fatto male i conti. Lui si traveste in qualche modo cercando di farla franca rispetto a una persona che evoca gli spiriti dei morti. Capisci che non regge insomma. Saul ci metteva meno ad andare direttamente a dire io ho dato una regola ma adesso visto che io sono il re e faccio io le leggi voglio che tu evochi per me lo spirito di Samuele. E il re le dice non aver paura che cosa vedi e lei dice vedo un essere divino che sale dalla terra. È un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che davvero aveva chiesto di invocare Samuele e abbiamo lì davanti a lui Samuele. Si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul perché mi hai disturbato evocandomi? Ecco alla fine la colpa di Saul non è particolare. Semplicemente Samuele dice perché mi hai disturbato? Perché mi hai chiamato insomma attraverso questa negromante? E Saul risponde sono in grande angustia. I filistemi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Ha capito bene Saul? Dio non mi ha risposto quando l'ho consultato perché si è allontanato da me. Non mi ha più risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni. Perciò ho chiamato te perché tu mi manifesti quello che devo fare. Samuele rispose perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide. Insomma Samuele dice hai perso tempo, ormai è tutto già stabilito. Io ti ho rigettato, cioè Dio ti ha rigettato come re al posto tuo ha messo Davide. Tu sei destinato a perire miseramente, non puoi che accettare la tua sorte. Infatti adesso vado avanti a leggere ma è questo insomma il succo del discorso dello spirito di Samuele. Poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso all'ardore della sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Qui il riferimento è uno di quegli errori che avrebbe compiuto Saul nella sua vicenda precedente, non aveva rispettato le regole date da Dio e per questo Dio lo aveva screditato. Quindi tra tutte queste colpe è gioco facile per Samuele rievocarne anche solo una dicendo bastava questa colpa per esserti insomma messo fuori gioco rispetto all'essere re di Israele. E dice per questa colpa e per tutte le altre colpe il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Ed ecco arriva il messaggio invece riferito a quello che succederà da ora in poi e dice lo spirito di Samuele Il Signore metterà Israele insieme con te nelle mani dei filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. E cioè sarete morti, sarete anche voi degli spiriti di morti. Il Signore metterà anche le schiere di Israele in mano ai filistei. Però Don Mirko in questo caso la donna nonostante il tradimento è corretta nei confronti delle altre persone e anche di Saul. Cos'è che la spinge a non agire diversamente? Sì, diciamo che questa negromante è una persona che notate e vedremo anche nel seguito del brano manifesta anche una certa pietà nei confronti di Saul. E cioè riconosce che Saul l'ha ingannata andando lì camuffato ma non ne fa una questione. Evoca la persona che Saul vuole evocare, cioè Samuele, e praticamente fa bene il suo mestiere con rispetto diremmo umano. Ecco non c'è nessuna particolare cattiveria da parte di questa negromante se non il far bene e lo svolgere bene il suo compito. Direi che le parole forti sono però quelle di Samuele che dice domani tu morirai in battaglia contro i filistei, il popolo perderà questo scontro e quindi un messaggio assolutamente negativo viene riferito a Saul. E proprio per questo motivo forse c'è bisogno che la donna adesso si prenda cura di Saul. Infatti continuiamo a leggere. Di fronte a queste notizie all'istante Saul cadde a terra, lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. Inoltre era già senza forze perché non aveva mangiato nulla tutto quel giorno e tutta quella notte. Allora la donna si accostò a Saul e vedendolo sconvolto gli disse Notate questa umanità semplice ma necessaria alla donna che aiuta Saul, a cui è stato appena detto domani tu morirai, questo non vuol dire che nel presente io non possa prendermi cura di te. Saul rifiutava e diceva non mangio. Saul testardo tutta la vita, anche il giorno precedente alla sua morte rimane testardo, ma i suoi servi insieme alla donna lo costrinsero ed egli ascoltò la loro voce. Si alzò da terra e sedette sul letto. La donna aveva in casa un vitello da ingrasso, si affrettò a ucciderlo, poi prese la farina, la impastò e gli fece cuocere pani azimi. Mise tutto davanti a Saul e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e partirono quella stessa notte. Ma Don Mirko, per riassumere, la guerra contro i filistei che compie Saul, in cosa comporta? Praticamente quando il popolo di Israele, uscito dall'Egitto, è arrivato nella terra promessa, si è trovato nella terra promessa in un territorio che era già abitato da tante altre popolazioni e il suo compito è stato quello di ritagliarsi uno spazio sempre più grande e occupare la terra promessa sconfiggendo questi popoli che erano già presenti. Tra i popoli presenti in quel territorio, il popolo forse più forte è il popolo dei filistei. Quindi c'è una sorta di guerra sacra che Israele è chiamato a fare contro i filistei per eliminarli e per poter essere sicuro nella propria terra, la terra che per Israele è la terra promessa da Dio nei loro confronti. Quindi è una battaglia epocale, è questione di vita o di morte per il regno e quindi notizia peggiore a Saul non poteva venire data. Pazienza la sua morte, ma può succedere che un re muoia in battaglia ma vinca lui la battaglia. E invece qui si dice che Saul morirà e noi vediamo che morirà per tutte queste colpe che ha compiuto, insomma il Signore lo ha abbandonato. Ma il problema vero è che il Signore sembra aver abbandonato anche tutto il popolo di Israele che è destinato alla sconfitta contro i filistei. E qui stiamo per vivere uno dei momenti davvero più bassi, uno dei momenti più tristi della storia di Israele. Beh, allora grazie mille Don Mirko. Figurati, sono contento di essere utile. Figurati, sono contento di essere utile.